La Regione Campania con la legge cinema oggi porta un bilancio dopo sette anni di investimenti delle ricadute, degli impatti e delle attività che si sono realizzate sul nostro territorio. Siamo particolarmente soddisfatti perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, non lo diciamo noi che li realizziamo, ma lo dice il mondo della comunicazione, lo dicono gli operatori, lo dicono le imprese dell'audiovisivo che sempre più hanno scelto di venire ad investire in Regione Campania grazie alla capacità attrattiva della Regione Campania e grazie agli investimenti che in questi anni sono stati messi in campo, particolarmente significativi oltre circa 60 milioni della legge sul cinema, fondi POR, fondi del programma operativo complementare, ma l'80% dei fondi messi a disposizione sono di carattere regionale, cioè provengono dal bilancio regionale grazie proprio alla legge sul cinema, il sostegno alla film commission proprio per infrastrutturare sempre di più accompagnamento e servizi e poi ovviamente le grandi fiction anche con una grande ricaduta su quella che è la reputazione della Regione Campania in termini di appeal, in termini di capacità attrattiva, impatto economico, occupazionale e turistico.